Ladies and gentlemen, dopo i quasi tranquilli 100 minuti nelle zone calde che sono sempre state le stesse, mannaggia, al versante vedato, alla piazza piacevole quest'oggi un po' di adrenalina 100 minuti nei landing con i medaglioni sapete già cosa fare perché impazzirò codice creatore step nello shop si toglie in automatico, vi ricordo, quindi dovete reinserirlo è fondamentale taggarmi su Instagram perché rispondo a tutti quanti, provare per credere iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a un milione, lasciate un bel mi piace io vi auguro una buona visione allora non è una giustificazione raga ve lo dico ma non ho ancora giocato una partita normale da quando sono tornato dalle vacanze di Natale quindi fatemi un in bocca al lobo abbiamo un'ampia scelta quest'oggi perché ci sono le rotaie rischiose, il gran ghiacciaio, la tana dragotante le distese del duello, gli scalini spocchiosi possiamo rivivere tutti i landing che abbiamo fatto nei vari spot dei medaglioni il gran ghiacciaio è subito qua, magari meglio evitarlo cosa ne dite eh? vediamo, un po' di gente ci andava eh sì, ringraziamo l'autista Alexa, imposta un timer di 100 minuti molto bene e si parte con un luogo che odiavo la tana dragotante sì, li facciamo un po' a rotazione tutti quanti in questo modo, non ci annoiamo le persone ci sono, io dobbiamo giocarcela astutamente quindi evitiamo di fightare nei punti sbagliati, vi dirò me ne vado dietro, me ne vado direttamente nella parte dietro così con calma, uh bella così abbiamo già un pompa fantastico, mi sta già sparando il bot, fantastico un po' meno super cassa qua sopra ottimo dov'è? ah no, è sotto? no, è qua e dove caspita è sta cassa? ma porca miseria uh cecchinozzo si vede eh che non gioco da qualche giorno mannaggia ragazzi inizio a danneggiare il boss ma si è spostato bella boccia dopo aver fatto un po' di danno ragazzi ci allontaniamo intelligentemente e iniziano ad essere tantini eh iniziano ad essere tantini ehi 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 t'ho visto sai secco cosa? no ragazzi questo non l'avrei voluto vedere cioè il bot che va a prefire al muro lo accetto solo perché abbiamo one tappato quel tizio che voleva rubarci il nostro caro boss distese è sicuramente più popolato rispetto agli altri landing ci sarà da rimboccarsi le maniche dai 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 questo che cos'è? una mitraglietta va bene vado sopra c'è la cassa? si meno male dai 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 dammi qualcosa di buono ti prego ah ho preso solamente due barili di tutti quelli che c'erano non bene affancuore mollami e vabbè boss è sparito raga forse è sopra ok è sopra è sopra è sopra è sopra ok 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 calmi 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 con calma con calma con calma sta arrivando qualcuno aia questo non era qualcuno questo era cioè si era qualcuno non era il boss traccato quello lì molto bene traccato di nuovo dove vai? eccolo si sta arrivando qualcuno col cecchino raga oddio ho visto uno la dov'è il boss? dai e muori ti prego ok no 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 oh mio dio l'ho one pumpato raga l'ho one pumpato l'ho scoppiato con pompa passi ah è ora? è ora? è ora? yes ehi ehi magari stai calmo ehi l'ho fatta mancarlo ne ho un altro dietro ma porca di quella miseria ehi smettila ora mi pusherà finché non c'è un domani ah aiuto mi uccide la tempesta raga via di qua il piano è questo non posso pescare credo ma posso recuperare il portapesci che c'è ah c'è uno qua dietro che schifo ah 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 col pompa attack mitico no vabbè raga avevo visto il pompa uscire dal muro sapevo che era là dentro a parte non mi ha messo la scala gialla non so come sia possibile no questo volevamo ragazzi Peter Griffin agli scalini spocchiosi sto arrivando oh comunque siamo a supera visibilità le distese cosa che non è riuscita manco nei 100 minuti le distese meglio di nulla meglio di nulla però dobbiamo vincere forse scappa perché non armi oh mio dio c'ha lancia granate non so come faccio a essere vivo ma quello è un tipo oddio si ho fatto paura per un attimo cioè mi sa che ho fatto più paura io a lui però devo sbrigarmi sennò l'ammazza raga bello bellissimo bellissimo oh c'è troppa gente per i miei gusti l'ho massato massato stavo dicendo ma che ro ma che stai scherzando oh mio dio no ragazzi questo si è girato e mi ha pampato a caso sparando a sensazione sapevo che il ritorno dalle vacanze sarebbe stato traumatico ci sto e andiamo alle rotaie rischiose stavolta che tra l'altro è il video dove abbiamo fatto più vittorie in assoluto quindi proveremo la medesima strategia terriamo le case dietro poi proviamo a prendere il medaglione e vediamo che succede no alle case dietro non ci arrivo aglia ma chi ma chi è stato ma qualcuno a caso dai non posso non posso costruire lì qualcuno sotto ma questo posto oh mio dio sta arrivando un altro da sopra è finita è sopra ho capito raga ma che sta succedendo scusatemi eh no ragazzi ma che sta succedendo ma ma what the fuck granate a caso sparate dove ero io va bene entro in un sotterraneo c'è un tizio risalgo c'è un altro tizio scappo col grappler c'è un tizio appollaiato sulla stazione boh vabbè io suggerirei di provare dai gran ghiacciaio è l'unico che attualmente manca all'appello così abbiamo fatto tutti quanti landing e poi torniamo dove ci pare piace ma il nostro amico c'è o non c'è ah è qua dai ma ti pare non lo trovo e poi me lo ritrovo davanti affanquare laggiù tutti laggiù buonissimo bravi bravi state vicini sì però dovresti anche smetterla cioè continua a sparare a resistere basta basta oh oh mio dio vergognati vergognati ah lo sentivo camminare eh il pezzettino di chiacchia quindi adesso abbiamo due medaglioni ma questo ma questo ma questo non stava bene e quello c'è uno del cespuglio ah è scappato con l'impulso va bene dov'è dov'è eh però dai no no mi rifiuto si balli no fai sboccare fai sboccare le scime te lo giuro mamma mia mamma mia a parte il tipo col medaglione che si nasconde nel cespuglio manco fosse una solo victory cup dimenticandosi che si vede dalla mappa dov'è eh le distese è pieno è pieno zeppo va bene challenge accepted ci saranno almeno 10 15 persone ok posso prendere questo fucile al salto me lo lasci buono ottimo abbiamo una kill lì 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 ah eh va bene oh rimangono tutti con lo sputo di vita mi sto iniziando a innervosire siamo esattamente a metà dei 100 minuti ok Stefano il tempo c'è per vincere porca miseria ti pare che chiudi l'anno così scalini si si scalini spocchiosi raga per forza vamos oddio per un attimo pensavo che fosse questo raga è laggiù gli scalini sono atterrato malissimo che idiota l'unica cosa che potrebbe salvarmi leggermente la vita è questa zipline se non tocco terra non sono landato eh ancora non siamo landati stiamo per landare agli scalen spocchien lo spocchiosignolo con calma dammi big dammi big veloce ehi ehi certo oh mio dio questo ha lanciato se stesso mentre spaccava il pavimento ed è entrato precisamente oh mio dio andiamo agli scalini spocchiosi raga che prima l'ho missato tanto è qua sotto però ho 70 di ping ma what is going on adesso 15 buono ok si sta ribilanciando non ci credo c'è un lava sulla casa c'è un lama raga lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio può significare vita o morte vita o morte lo scopriremo adesso ho preso tutto ho preso un botto di roba oddio questo non doveva succedere però eh non c'è niente non c'è un tubo un pompa molto bene buono tipo si è buttato laggiù va bene va bene ho bisogno di cure eh preso danno dalla zipline e per quale motivo mi sa che qualcuno si sta facendo un big la raga senza mi sa oddio dov'è avevo chiuso raga no raga avevo chiuso che stupidaggine che stupidaggine che tossiche quelle granate cioè tu chiudi il muro ma ti colpiscono lo stesso cioè come se la mia testa stesse ancora pensando a crostini affettati carne oh che buono vabbè vabbè dimentica dimentica pieno di persone pieno pieno eh minchia raga pieno pieno ti prego ok una r yes peter da dietro mi stanno cecchinando ma porca trottola ah mister cecchino addirittura ma guarda te l'hanno cecchinato non ci credo oh cavolo si buono però l'ho cecchinato si ora scappi no oh mio dio io non ci posso credere raga giuro mi hanno cecchinato fai il cavolo che vuoi però cioè perché è che mi cecchina dal cazpita di filari dai io sopra non ci atterro cioè atterriamo lontani nella casettina molto bene faccio regalo ah wow guarda sta arrivando uno t'ho visto sai t'ho visto piccolo alieno maledetto bene alieno one hit dai che cavolo devo allontanare di nuovo ah bene aiuto sta venendo qua dai raga sta venendo qua ah 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 chiaro perché chi è che non ha uno scare epico all'atterraggio ma pare più che normale vada gli scalini che alla fine della corsa mi prendo il medaglione di Peter basta anche se siamo alla fine guardate la corsa raga guardatela che portello di gente dov'è qua sotto bro io so che sei qua dentro let's go hi da dove ma no vabbè squagliato godo eh certo chiaro 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 cecchinato qua sopra godo 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 un botto qua sotto non ha più niente non ha più mazza raga invece si noi non ci posso credere raga ve lo giuro su quello che volete non ci posso credere ma io ho fatto 50 white ma com'è possibile che poi l'ho ricolpito e non è morto non c'è verso di prendere un muro eh abbiamo detto nelle zone con il medaglione ma non posso andare sempre nello stesso posto cioè dobbiamo un po' variare ora con certezza non siamo soli perché c'è uno che mi sta trapanando un orecchio col suo deltaplana maledetto ooooo fastidio man chiaro c'è un pompa noi no da dove da dove dai ho finito ho finito ho finito ho finito ho finito ho finito allucinante allucinante raga ve lo giuro oggi è incredibile riproviamo con Peter 19 minuti e 30 secondi mancano all'appello non l'ho preso non ci posso credere bene sai bene dov'è 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 lui oh mio dio no fai sboccare patte kings nascosto dietro no fai vomitare fai vomitare te lo giuro oh mio dio oh mio dio stranamente pieno di gente vabbè dai pieno è un paralone sono due persone oltre a me finchè non combatto il boss io non vado quindi faccio i cavoli miei ah bene chiaro godo sai godo chiaro let's go raga let's go no io no io vomito raga vomito non mi sento bene questo da dove caspita è arrivato sempre con le solite granate attraverso la finestra no no ragazzi no Peter 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 sto arrivando da te oh no ci sono anche i droni non l'avevo visto ma sti cavoli oh mio dio non ci voglio credere un altro ancora no ragazzi ma no che schifo che schifo che schifo dai già questo aveva generato il box e c'era Peter dentro il mio box è andata a fare in cuore non so neanche più dove andare in questo momento mi sono proprio demoralizzato forse è distesa il duello abbiamo quattro minuti quindi se muoio adesso no 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 non sembra troppo popolata la distesa del duello forse gli astri mi stanno ascoltando e danno un'occasione la mia ultima chance di oggi dai dai che godo dai che godo ci facciamo il medikit oh raga mi stanno dando un po' di fortuna con le casse che dite c'è anche un cecchino lì dietro questa è la trinca ottimo che gli sparano bello sì raga mi ha distrutto ah chiaro dobbiamo stare focus no raga prende tutto al primo colpo no vabbè è incredibile è incredibile ma chi è che con 40 di vita pusha una persona raga ma io non ho più parole non ho più parole devo demolire la scrivania ogni volta ragazzi 100 minuti nelle zone con i medaglioni non beh spero che almeno vi siate divertiti cioè io ma mi pare che posso allontanarmi tre giorni da casa torno e devo stare le ore per fare una partita decente perché devo ritornare a giocare tutto il giorno no non c'è verso non c'è verso ragazzi iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a un milione fino al prossimo video questo è per tutto buone ma tutto caduto tutto per terra qua giù in fondo si è smontata anche la switch ciao ciao